Musica Noi sono a Guvernado 2015, noi sono a Salusse, noi sono a Sergio Perardo di Ludolfini che diceva che alcura avrei a suonare per questo fatto di Ludolfini, il 25esimo e allora non li mandano subito, noi sono a Salusse so che gli addono che non usavano troppo a Fingaro e so che invece resta uguale rispetto al Burk Allora, ma vi penso che so che abbiamo guardato, ma dalla prima edizione della festa di Ludolfini è l'esprit, l'esprit di festa usitano, l'esprit di identità, di coscienza e questo è sempre l'esprit dopo tutti gli anni si cambia qualcosa nelle feste del Delfino siamo passati da Trubasse entre Catre e Ciuc alla società agricola del Burgat in Valgrano siamo a Seles, in Valmairo che ha cominciato a arrivare a Gelsen siamo a Vernant, siamo a Ruccaviung, siamo a Savian in Valgrano, in Valgrano, in Valgrano, in Valgrano, in Valgrano avevano sempre, parei, displaçato questo feste io sono venuto a Salusse qualcuno è venuto a Storze e Lunar perché Salusse le esnestì fuori dall'area occitana come confini linguistici dicono ma beh, ecco, i nostri suonatori sono sempre andati per il mondo a portare la loro musica e a co è la ragione di esserci della cultura usitana come grandi nostri suonatori forse andano i Trubai che portavano la cultura e la poesia usitana per l'Europa a loro non usano tutti se siano displaçati dai cinque chilometri da svalati la gente svalata venire a Ciavall qui da Plano venire a Ciappu è sempre la festa del Daltino che deve essere governata ma è sempre il nostro feste e rispetto alla sedizione passale l'aveva che l'ha fatto e si è spostata più al nord a loro c'è qualche partecipazione a più sperata, s'attende perché le JK di Mars l'ha fatto a loro però avete notato che la valata a Puglioni che tribulava magari arrivava fino alla provincia e non partecipavano mai? penso penso che penso che la gente delle valate del nord della Valbellis della Valcrizun siamo favoriti per la partecipazione in questa festa del Daltino ma è sempre la festa del Daltino ma è sempre la partecipazione delle valate del nord la nostra gente è autistica e sempre e sia qualcuno del nord mai benissimo che bene lo Dalfino lo Dalfino lo Sanko si è in cammino a lavorare un nuovo album poi fa qualche anticipazione gli sarei di nuova sonorità nuovi tanti testi sempre per lo discurso del rapport d'interazione del nord lo registriamo all'università sempre proprio da nostra amica Dalski che aveva fatto la produzione del giubus Bagasse e Bandì e sì e avare del toc del toc del storio del Dalfino come un e del toc che facendo di 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 e poi abbiamo un po' inedito, un po' inedito, delle canzoni nuovi le atmosfere sono solo le nostre, solo le atmosfere della musica del dalphine che guardano il ambiente, come tutta la musica più popolare del mondo bene, noi ricordiamo quelli che sono sintonizzati su Radio Beckwith a due o tre ore durante il vostro concerto, per quelli che sono ancora convinti di venire non possiamo dire per li convincere Mi Dio, se sono già venuto a sentire il dalphine, a fare il festival del dalphine io venirei già mai a ballare, a ascoltare, a cantare in un'altra se sono ancora venuto, io invito a descrivere il nostro mondo, la nostra idea della cultura russitana e di un appuntamento per presto sera, qui al Palavaccio come lo chiamiamo in usato, perché è una marcia dei besti al Palaccio RS di Salus e se vengono a vedere Grazie mille Grazie mille Grazie mille